OMCS, azienda leader nel settore della movimentazione industriale, da oltre 15 anni con la vendita ed assistenza di carrelli lavatori, termici ed elettronici. OMCS è concessionaria dei marchi Piaggio, Toyota, D10 ed Eurocomac. OMCS lo puoi trovare in località Vattiato, zona industriale Cutro. Il segretario nazionale dell'UGL Polizia Penitenziaria ha la sua presenza qui a Catanzaro, questo pomeriggio a che cosa è dovuta? Intanto per una situazione che ci mette di fronte alla necessità di stare vicino ai colleghi. Stiamo facendo un giro in tutta Italia per verificare le condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, verificare come sono i luoghi di servizio e soprattutto verificare lo stato di disagio lavorativo dovuto anche alla carenza d'organico e quindi dovuto anche al fatto che il personale è costretto a operare su più posti di servizio. Siamo proprio in una carenza disfunzionale in quanto abbiamo mezzi che non si può viaggiare in quanto ci sono oltre 600 km dai mezzi e quindi andiamo anche noi stessi, sia noi che i detenuti, diciamo in una situazione precaria. Come personale siamo proprio a livello disumano nel senso che ci sono delle sezioni dove deve lavorare un agente per due sezioni e di conseguenza se non assumono del personale è una cosa che non si può andare più avanti. Nel senso che noi ce la stiamo mettendo tutta anche perché facciamo delle traduzioni sotto scorta con una responsabilità che mi prendo io proprio a priori in quanto ne sono il vice responsabile anche del nucleo che non dovrei neanche prendere in quanto se dovesse succedere qualcosa il direttore responsabile ne sono io. Però a questo punto se da questo momento dovessero incrementare le unità si pone il dubbio perché non posso fare più le traduzioni non farò più le traduzioni a portare avanti diciamo vicino ai tribunali o vicino dove bisogna andare perché non c'è il personale. Con l'apertura della nuova ala che avverrà tra qualche mese la situazione potrebbe peggiorare quindi quali sono le risposte che avete avuto in merito? Le risposte dicono che devono aprire quest'ala ma secondo me non l'apriranno in quanto se non dovessero assumere degli uomini non so con quale prospettiva apriranno non so come possono aprire un altro padiglione dove ci vorrebbero non meno di 200 uomini e quindi a mio giudizio non l'apriranno a meno che non si inventano qualcosa loro perché si andrebbe a peggiorare le situazioni. Walter Campagna coordinatore regionale per la giurista minorile sulla provincia di Catanzaro ma soprattutto in Calabria qual è la situazione delle carceri? Beh guardi io le posso rispondere in modo più specifico per quanto riguarda la giustizia minorile. Catanzaro è l'unico istituto della regione per quanto riguarda i numeri a dire il vero rispetto agli anni passati i numeri mi riferisco ai numeri di detenuti stanno subendo una notevole riduzione. Per quanto riguarda le persone di polizia penitenziaria quelle purtroppo anche perché non vengono rimpiazzati i colleghi tutto quel personale che si assenta a vario titolo, si assenta perché è vincitore di concorso oppure si assenta perché dopo diversi anni è riuscito a raggiungere il tanto atteso pensionamento. Per cui la situazione se vogliamo fare un'analisi dal punto di vista del personale è rimasta sempre la stessa. Per fortuna abbiamo avuto rassicurazioni dal Dipartimento di Giustizia Minorile che da qui a breve ci sarà un incremento di organico alla luce anche e soprattutto dell'apertura del nuovo padiglione mi riferisco al nuovo padiglione detenuti qui a Catanzaro la quale dovrebbe aprire se non erro da qui a veramente pochissimi mesi. Grazie. Grazie.